Buon pomeriggio amici e amici, come va? Come state? Spero tutto bene! Ma prima di tutto il saluto della nostra dolcissima... Rrrrrrrrrr! Ci sta! Ciao a tutti! Oggi abbiamo centomila cose da fare, cento, centomila! Perché abbiamo un sacco di prodotti per fare anche il repilogo delle puntate precedenti, Ma oggi abbiamo tre, io spero, spero, carinissimi nuovi prodotti. Sono molto curiosa di vederli e di aprirli qua assieme a voi. Ma prima un occhio alla frase di oggi. La melodia dell'acqua. La melodia dell'acqua. Ora, sentiamo cosa ci dice anche la regista. Perché per me il rumore dell'acqua in realtà è una melodia, è un suono piacevole. Non è un rumore che mi dà fastidio. Infatti, molte fontanelle, no, sono zen. Sì, è vero. No, perché hanno l'acqua. Anche le cascate. Infatti, e quindi questo ci fa capire, per chi non lo sa, che il rumore, il suono dell'acqua è molto rilassante, relax, relax, molto rilassante. Sì, perché forse è ripetuto, no? Sì, soprattutto le onde al mare. Però, dicevo stamattina nel video di questa mattina, che le onde del mare, sì, sono rilassanti, però, per esempio, quelle riesci a sentirle bene d'inverno e il mare d'inverno a me mette un po' di angoscia, un po' di malinconia, un po' di tristezza. No, ma se no anche in estate, quando non c'è molta gente, comunque magari che è... O tu che cosa intendi? Sì, però non lo senti bene d'estate il rumore delle onde. Invece nel bosco, che sia estate, inverno, autunno, primavera, non hai mai, se sei vicino a un ruscello, no? O una piccola cascattina, non hai mai, ma dico mai assolutamente, la sensazione che quel suono dell'acqua faccia venire un po' di malinconia. Mai! Anzi, aspetti di sentire gli uccellini che cinguettano e da un momento all'altro aspetti di vedere le ninfe dell'acqua, no? Cioè, le fattine che saltellano anche di, che ne so, da un fiore, da una ninfea, da un'altra ninfea, no? E quindi, quello è sicuramente rigenerante per lo spirito, aiuta tantissimo a connettersi alla natura e soprattutto al nostro io interiore. Io di queste cose ne capisco poco e nulla, però vado molto a sentimento, no? E quindi vado molto a quello che mi dice il cuore, quello che mi dice l'anima, seguo e ascolto sempre la sensazione del momento. Sono una persona da quel lato lì molto istintiva, infatti questo combatte molto con il mio io razionale, perché in realtà un po' vuoi per segno zodiacale, no? La Vergine è molto, come segno zodiacale, razionale, preciso, anche puntiglioso, no? Però, in realtà, poi io ho questo lato così, un po' zen, diciamo, no? Di ascoltare anche quello che abbiamo interiormente, che cambia, cambia da momento a momento, cambia da giorno a un altro giorno e cambia anche a seconda delle fasi della vita. Sicuramente, io mi sento di dire che prima di avere i figli avevo un equilibrio diverso, anche un pensiero diverso, un modo di approcciarmi agli altri, ma anche ai problemi di me, ai miei problemi, no? Vi approcciavo diversamente. Ora, invece, sono molto più rilassata, molto più calma, organizzo, se ho un mucchio di cose da fare, non ha senso stare lì tanto a pianificare, vanno fatte una dietro l'altra. Il più velocemente possibile, tirarsi su le maniche e farle assolutamente. Invece, perché comunque siamo anche, no? In tanti, la mole di lavoro è aumentata e quindi bisogna assolutamente fare tutto. E questo un po' mi ha anche, diciamo, confermato dal fatto che dopo i bambini, boh, volente o non volente, mi ammalo molto meno. Un po' perché forse il fisico è cambiato, si è fortificato, ma anche perché so che non mi posso ammalare, se no si ferma tutto. E voi direi, se ti amaliggi e lo vedi che ti fermi, sì, ma certamente, anch'io infatti sono stata con dei, sì, K.O. pazzeschi e sono stata malissimo. Ma proprio perché, probabilmente anche quando avevo qualche sentore di malessere leggero, non lo ascoltavo, continuavo a fare, pigiando a tavoletta l'acceleratore delle mie energie, no, psicofisiche vitali e quant'altro, e quindi portando il mio fisico e anche la mia psiche al massimo, no, delle mie possibilità, per poi crollare, inesorabilmente, proprio fisicamente. E quindi, sì, vi confermo che si cerca di tenere duro più a lungo, no, di fare più cose, più velocemente, più intensamente e anche di farle meglio. Anche prima, tendenzialmente, era una mia priorità a farle una volta sola cercando appunto di farle bene, per non doverle poi rifare. Ora è una questione assoluta, cioè non mi posso permettere di rifare la stessa cosa due o più volte, già tanto se riesco a farla una volta. Quindi, deve essere assolutamente un gol al primo colpo, cioè anche per dire, spiega la maglietta, piegata e via, piegata e via. Invece, prima, magari aspetta che la piego così, poi la metto così. Cioè, cambia tutto radicalmente quando non si ha proprio più tempo, cioè tempo zero e quindi in qualche modo bisogna fare, è un po' la sopravvivenza dell'individuo stesso, no? Perché alla fine di sopravvivenza si parla, perché quando si hanno i bambini piccoli si hanno meno ore a disposizione per dormire, meno energie perché si sta svegli e quindi si impara a gestirsi un po' quello che rimane, no? Quello che questi piccoli esserini non ci portano via le ore di sonno, l'energia, però si fa volentieri perché gli si vuole un bene infinito più della nostra stessa esistenza e quindi ce la facciamo. Noi madri, noi padri troviamo dell'energia anche noi nonni e noi zii tante volte, delle energie incredibili che non sapevamo nemmeno di avere, no? E c'è poca, devo dire la sincera verità, questo lo penso, c'è poca attenzione alle mamme soprattutto, anche i papà, ma soprattutto alle mamme, al periodo che hanno, no? Che può essere delicato, potrebbe venire una depressione postpartum, però attorno a noi al giorno d'oggi che siamo così evoluti, no? Dal punto di vista dell'elettronica, della tecnologia, abbiamo raggiunto un'evoluzione incredibile, siamo molto all'avanguardia per quelle cose, siamo in grado di fare tantissimo e da un punto di vista psicologico e umano stare vicino alla donna che ha appena partorito o che ha dei bambini piccoli che ha bisogno di una spalla e di un sostegno siamo indietro come non mai siamo tornati indietro perché una volta le famiglie avevano il sostegno almeno, no? Delle famiglie vicine che potevano essere parenti come anche non parenti, no? Però c'era un sacco di aiuto di affiattamento, le comunità si aiutavano di più tra di loro, adesso frega niente a nessuno, ognuno per sé e chi non ce la fa si attacca per non dire si aggrappa passatemi il termine quindi questo sì è molto molto sentito secondo me e bisogna trovare una soluzione fare qualcosa io ce l'ho in mente come degli obiettivi che mi piacerebbe proprio poter collaborare poter dare una mano e dare un segno importante per aiutare la società odierna a evolversi da questo punto di vista io se a qualcuno gli viene in mente qualcosa io sono a completa disposizione perché questa secondo me è proprio una cosa di cui noi abbiamo bisogno non è un progetto perché non è assolutamente un progetto no? di business ma è un progetto di vita che come si può dire raggruppa tantissimo tutti tutte tutte le persone prima o dopo tutti abbiamo bisogno di questa cosa quindi non lo so io adesso ci sto tutta un'infarinata in testa mi piacerebbe proprio dare una mano per questa cosa qua non so ancora da che parte girarmi ma prima o poi qualche idea mi salta fuori e quindi boh se avete idee consigli e anche solo parlarne perché aiuta tantissimo a confrontarsi fateci sapere nei commenti tutte le vostre opinioni tutti i vostri pareri riguardo a questo argomento super delicato e soprattutto se avete bisogno di una persona con cui parlare scrivetemi pure qua sotto nei commenti perché almeno qua da questo no punto di vista io sono presente per anche supportarvi qualora ne avete bisogno no cioè non consiglio forse non sono in grado però una spalla su cui lamentarsi su cui piangere io ci sono questo è il canale giusto per farlo no perché anche solo a volte lamentarsi o comunque vedere che poi anche io ma magari altre amiche no qua della family hanno avuto la stessa problematica ma sono riusciti in qualche modo a superarla aiuta tantissimo perché a volte si hanno dei problemi che non si sa ma sono comuni a magari il 60% delle donne in quel momento no e quindi anche solo parlarne capire e vedere come gli altri hanno potuto ritrovare l'equilibrio e arrivare a un punto di svolta secondo me è di vitale importanza parlarne comunicare dovrebbe essere la cosa in assoluto più importante e che sempre meno viene fatta perché tanti che si sta a guardare anche le robe veloci invece bisogna parlare e interagire anche qua con le robe lunghe dove si ha momenti di riflessione momenti di interazione e momenti di scambio scambio empatico non stare lì via veloce via veloce a guardare perché quelle cose lì sì sono carine sono sfiziose ma nel lungo termine non lasciano mica nulla cosa si lasciano non ti lasciano un un arricchimento psicologico che dici sto meglio no invece secondo me ci sono tantissimi altri modi di star meglio e vivere meglio il nostro presente ma non viene utilizzato nella maniera corretta perché a certe cose vengono enfatizzate dalla parte della velocità ma lasciano poco sono effimere cadono subito e non cadono in piedi cadono di naso ok e quindi secondo me questo è super mega importante comunque alla fine allora visto che avete un po' anche scritto del che tutti i video vanno su no non è vero non tutti i video vanno su io non tratto argomenti sì particolari però proprio sì non vanno su e non si monetizzano e questo è un questo mi è uscito un po' questo strano questo perché ho visto delle amiche che ci hanno scritto no che tutti i video si caricano ma al limite non vengono monetizzati è un problema se io non ho detto niente di particolare di brutto non ho detto nessuna parola che non si può dire per me se non si monetizza è un problema quindi preferisco da un punto di vista anche di sostegno no perché comunque io ho utilizzato delle energie ci ho speso perché per comprare per esempio i prodotti no spendiamo dei soldi non può essere che mi va il video online e che non si monetizza assolutamente assolutamente tornerà anche poco perché sarà 50 centesimi da tassare ma qualcosa è giusto che rientri se si spendono dei soldi delle energie le ore di editing e quindi no assolutamente cioè il video in chiaro se non è monetizzato non può essere sganciato io lo dico perché comunque si tratta anche sì di una grande passione che io ci metto tutti i giorni tutti i giorni dell'anno quindi assolutamente io non sgancio il video se non viene aperta la monetizzazione da parte del grandissimo e supremo che ci ospita qua nella piattaforma quindi sì sono d'accordo se non viene monetizzato allora se l'escamotage è metterlo sotto all'abbonamento ok tanto comunque non lo vedrebbe nessuno nel senso perché io non li farei no non lo metterei in chiaro se non è monetizzato quindi non si vedrebbe mai comunque e allora sì preferisco dire anche da un punto di vista cioè del rispetto del lavoro di ognuno di noi e dei soldi perché se io ci compro un prodotto ok che manco me lo mandano e me lo compro e siamo tutti d'accordo che è giusto che me lo compri se lo voglio provare però sì io ci ho messo un'ora o due a fare il video poi c'è l'editing c'è anche il costo del materiale tecnico perché comunque ci vogliono le apparecchiature ci vogliono anche come si chiamano tipo filmora no i programmi eh quelli costano e costano un botto di soldi i programmi e io ovviamente li pago quindi questo no non si regge non può essere assolutamente che vanno i video e non sono monetizzati non sono assolutamente cioè contenta se mi sale un video e non è monetizzato che non prende nemmeno 10 centesimi perché io sono onesta e sincera con voi sempre cioè è un canale piccolissimo e quindi non è che prende chissà che cosa però sarà pure 2 euro al mese però sono sempre meglio di niente no cioè non è giusto che non si prende neanche quel 10 centesimi faccio ipotesi no perché anche il supermercato se vogliamo la busta cioè la busta costa 15 centesimi 20 e quindi cioè di sganciare il video se non si è monetizzato assolutamente no io infatti per fortuna posso vedere se si monetizza se non si monetizza io dico no c'è un problema perché mi dice c'è un problema che può essere anche per esempio una musichetta che ho cantato io che oppure anche solo la mia intonazione della voce mi ha spiegato da un punto di vista tecnico che potrebbe essere dato anche solo da un'intonazione della mia voce che richiamo mi sembra stranissimo perché poi sono suonata come una campana però l'intonazione richiama qualche canzone e allora no cade là però se io lo metto no in modalità secondaria allora lì non c'è nessun problema da vedere perché io non lo so non l'ho mai fatto quindi sono super curiosa anche di sganciare video che non sono andati online per vedere cosa succede tanto comunque a chi è iscritto normalmente non cambia assolutamente nulla quindi proprio zero al limite poi ce ne saranno di più se capiamo e risolviamo anche il problema magari in generale alla fine perché può essere anche come si può dire è tutto bene quel che finisce bene se no alla peggio ci sarà chi sosterrà il canale chi crederà in me nel mio contributo no anche lavorativo e che magari vuole sostenermi per vedermi crescere nei miei sogni nei miei progetti di vita qua su youtube perché può essere anche quello non lo so comunque le vostre opinioni sono sempre super bene accette e mi fanno un sacco di piacere poi non so dovevamo dire anche qualcosa mi pare di super perché oggi c'è un sacco di cose il quizzettone cartunoso bravissimo perché avete indovinato subito Pellecchia ha recitato nel cartone animato di Magica Emy anche a me piaceva tantissimo Pellecchia mi faceva un sacco di simpatia mi faceva un sacco ridere e quindi abbiamo voluto diciamo inserire Pellecchia perché mi piaceva poi mi sembrava difficile invece no siete stati bravissimi avete indovinato subito il personaggio di oggi penso che sia super facile però noi diciamo solo non tutto il nome ne diciamo un pezzo quattro occhi dove ha recitato quattro occhi secondo me questo lo indovinano tutti ma tipo il 200% lo indovina proprio immediatamente se ci fosse il pulsantone farebbero così ho vinto io suonerebbero subito il pulsante perché chi è che non lo conosce ma basta non diamo troppi spoiler i prodotti di oggi sono molto molto carini e li ha scelti la regista non so se ci puoi confermare almeno se sono di una box sono della box da qui ho dato anche le scorse volte i prodotti quindi facciamo qua giù o qua su qua giù ha detto la regista allora abbiamo delle scorse volte ma faccio veloce perché non vi voglio annoiare troppo tanto questi al limite potete recuperare il video se li volete vedere in azione con gli swatches avevamo l'illuminante di blossom che è quella con i e non sta però con i capelli rossi poi si chiama anche lolly lolly non me lo ricordo sincera io sincera questa bubbles bubbles o dolly dolly ok poi abbiamo questa che io non mi ricordo mai il nome buttercup bravissima oppure molly non me li ricordavo assolutamente quindi avevamo i tre illuminanti verde celeste e rosa e poi avevamo questa bellissima palette che ha anche gli occhialetti così è metallica quindi è calamitata e dentro ci sono questi ombretti un pochino di fallout mi tocca dire lo fanno ma niente di trascendentale sono molto molto performanti quando li li applichi sul no no cioè no 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 non più di altri devo dire sono la tenuta è stata buona hanno durato tutto il giorno con primer senza primer quindi pazzeschi anche questi li riutilizziamo così li proviamo ancora di volta in volta la fascetta skin che avevamo e poi avevamo un botto di questi bellissimi dischietti stroccanti che come avrete capito non ho il coraggio di utilizzare perché sono morbidissimi e mi sa che li lascio a mustagnoi no sono troppo carini ho paura a utilizzarli ho paura che si rovini il disegno li devo usare perché se no è no sense apriamo questi vai allora il primo è magari chiudi la palette rosa ok si ha ragione anche si allora non so se sono plump no super trio lip gloss e sono trasparenti a questo punto che dici ma se lip gloss non lo puoi provare sulla mano si mi fido tanto dice la reggi la mano è la tua no no ok allora questo è bellissimo guardate che carini poi mi piace che abbiano i due lati questi li potete anche riutilizzare come charm vedete perché si può togliere c'è proprio il lo potete attaccare non dico all'orecchino ma al portachiavi del telefono per esempio sì alle chiavi di casa ma volendo anche un braccialetto carini sì bellini se poi ne avete tanti tanti li attaccate fra di loro e fate un bracciale tipo pandora o pandora non lo so vedete voi dipende se è natale allora questo primo swatch mi sa che sarà chiarissimo sono tutti molto trasparenti carino l'applicatore sembra morbido è molto soffice sì e i glitterini sì sì si vedono mi sembrava di no invece è molto rosato non pensavo allora aspettate che lo chiudo e facciamo così bellissimo carino sì sì è molto rosato sapete che vedendolo da lontano mi sembrava quasi di no invece sì bellino boh è caduto questa è la signorina con la conciatura bionda e questo gli fa concorrenza a Kiko come celeste bellino anche il charm guardate che bello col cuoricino celeste invece questo aveva il cuoricino rosa belline c'è scritto cose diverse cosa c'è scritto ah giusto non lo vedo io e boh g r l p v r girl power ah sì ok ha senso e qua uguale girl power io g l r p v r ok no oppla ha gocciolato bellissimo ma dai ma sai che è proprio bello si vedono io adesso non ne metto un chilo ne metto di più e come preoccupazione non ho ascoltato sembra buona che va sul neutro provo a farti sentire per nulla spiacevole no bisognerà sentire il gusto perché la profumazione è delicata però non sa quasi di nulla si sente appena appena un po' di caramella di fresco e l'ultimo l'importante è che non puzzetti esatto e l'ultima è la nostra amica col caschettino moro e il cuoricino verde e questo è proprio verde eh sì beh bellini hanno fatto dei colori particolari oh aspettate che ha sbattuto e quindi magari ha poco prodotto ecco anche questo è molto verde beh i glitter si vedono che bellini ma dai non pensavo quindi aspetta che li prendo su tutti così io non pensavo carini sono colori molto comunque accesi per essere lip gloss eh sì io pensavo per un attimo che fossero un po' più versione bimba invece no tra questi con la matita marrone io adesso ossessionata dalla matita di max factor tu che tre mesi fa dicevi che il lip liner non lo usavi no invece adesso le sto usando un sacco vedi che strana che sono questa matita che mi hanno regalato al Tigotà con gli acquisti è molto molto carina e devo dire che mi piace anche abbinata per esempio con i gloss cioè metti la matita sfumi appena appena con un pennellino così in giù poi metti una bella zaccata di gloss una carriola di gloss e viene un make up luminoso colorato anche un po' sì un po' così da monella no bellino e col celeste adesso che Kiko l'ha fatto Kiko questo gloss celeste vedo che sta impazzando quindi questo qua celeste secondo me è un buon dupe perché sicuramente costa pochissimo anche Kiko perché mi pare che siamo sui 7 euro mi sembra di sì quindi no Kiko eh no Kiko di più mi pare 13 così tanto mi sembra 12-13 aspettate che guardo i gloss come si chiamano 3D Hydra Gloss eh secondo me sui 12,90 qualcosa di questo tipo così tanto o 11 o 12 lì insomma più di 10 secondo me quanto dice 11,99 ecco 11,99 dice vediamo quello celeste celeste per me costa di più perché forse magari è più nuovo diciamo così ho scritto male aspettate sono una K celeste niente no non trovo e ma teoricamente se entri sul sito comunque 13 ecco però Zalando dice 13 vabbè comunque intorno ai 12 11,99 ah allora dai 12 ai 13 ok sì e quindi questo sicuramente costerà 3 euro tipo sì sì circa sì eh quindi è un dupe diciamo così per il colore il pack è totalmente diverso e non se ne abbia male l'altro brand però questo è qualcosa di iconico e di giocoso e da regalare tipo alla migliore amica al migliore amico perché ricordiamoci che i gloss ma tutto il resto del make up non è fatto per essere utilizzato solo no da alcune persone ma è stato creato per far sentire bene tutti quindi chi si sente a proprio agio come la sottoscritta deve poter utilizzare quello che ama quindi secondo me super top da regalare a chi si vuole e a chi si sente di utilizzarlo no tanto più questo che è anche un po' sfizioso salute la regista Starnutito te che dici qual è il tuo preferito eh preferito il mio preferito è il celeste perché combatte con quello di Kiko e vediamo quale sarà il più sparkle il mio forse è quello rosa ah sì dai io ce l'ho su quello celeste di Kiko tra l'altro e quindi molto carini allora se posso lanciare anche l'idea se volete per Natale questi sono pensierini carini che si possono anche appendere all'albero volendo perché mettete il lacetto qua no e lo fate passare da dentro alla scatola e appendete tutto all'albero mettete un fiocchetto di quelli da attaccare e poi man mano che arrivano le amiche a casa e gli amici li sganciate e li regalate li sganciate dall'albero io un anno l'ho fatto con i cioccolatini non di regalarle alle amiche ma di farli sganciare ai miei figli nei giorni di Natale ed è stata una cosa molto carina ci ho messo un secolo e mezzo però attaccarli tutti e l'oro poco staccarli se li lasciavo fare no però invece abbiamo fatto una roba un po' un po' perché se no facevano anche male di pancia i cioccolatini se si mangiavano se si pappavano un albero di cioccolatini però era molto carino da vedere ti ricordi? sì mi ricordo è stato un po' sì un lavoro diciamo questi secondo me sono molto belli sia da regalare che da autocomprarsi da autorregalarsi fateci sapere nei commenti qual è il vostro preferito io mollo scatolato questo il vostro preferito tra i tre colori sono tutti molto carini però è ovvio no? che ognuno di noi ha una preferenza la mia preferenza è la celeste quella della nostra regista è il rosa siamo molto curiosi di sapere quale sarà il vostro preferito e quale sarà il più amato in generale no? la parola segreta di oggi è un po' strana siete pronti? le tre moschettiere e una piuma potrebbe essere molto carina come emoji segreta perché mi vengono in mente i moschettieri con il cappello grande grande probabilmente potevano avere anche una piuma in testa nel cappello ok? quindi come parola segreta emoji segreta ci siamo e dobbiamo scegliere no? l'abbiamo già scelto quattro occhi già me l'ero dimenticata e sì che non c'è che sono sì non è che c'ha due milioni di anni però vabbè ok allora abbiamo già fatto tutto ma siamo state super mega velocissime la reggi vuole aggiungere qualcosa? no? allora a posto io direi che se vi va come sempre lasciateci un like di supporto super cartonizzato oggi e se vi va condividete con tutte le amiche e gli amici amanti del make up in questo caso super low cost perché questi costano pochissimo e non l'abbiamo detto ma sono di Shiglam perché forse si vedeva qua sì c'è scritto qua Shiglam ok? quindi il team li ha comprati sul sito perché noi negozio fisico di Shiglam qua dove abitiamo noi non c'è purtroppo e quindi dobbiamo ordinare però sono super bravi a imballare perché mettono un sacco di polistirolo che poi mi auguro riusciranno a riciclare noi lo buttiamo nella differenziata e quindi è così quello perché no fa un sacco di spazzatura però almeno non arrivano le cose rotte però è vero che se la spazzatura viene riciclata nel modo corretto continua il suo circolo non è che poi ne devono creare l'infinito viene riutilizzata anche quella no? mi auguro che funzioni così perché per me io gliela ridare anche indietro a Shiglam che la può riutilizzare anche perché non è che è sporca o che ha chissà che loro magari danno una spruzzata di acqua per sterilizzarlo e poi lo usano non lo so però sarebbe anche carino un vuoto a rendere no? non lo so dell'imballaggio perché alcuni imballaggi sono talmente fatti bene che è un peccato che vengano distrutti sì sì infatti magari potrebbe fare per le più affiatate cioè che comprano tanto una modalità in cui tu li rimpacchetti l'imballaggio e li puoi ridare eh brand se mi seguite qualcuno io ho anche delle buone idee se volete io ho i diritti di questa cosa che l'ho detta io scherzo chi se ne frega facciamo del bene e diamo idee utili anche a destra e a manca ma chi è a destra e chi è manca io non lo so però sento che tutti gli danno delle cose fatemi sapere se sapete chi è a destra e chi è manca perché io di solito devo essere in mezzo non bacco mai scherzo dai si fa anche per dire no a qualcosa di un po' diverso bene io direi che abbiamo dato tutto 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 fateci sapere se avete curiosità domande sempre qua sotto nei commenti se non siete iscritti al canale mi raccomando iscrivetevi l'iscrizione ovviamente è gratuita e come dico sempre io c'era mancai altra cosa e direi che ormai ci siamo quasi per gli extra supporti se volete supportarci abbonatevi no l'iscrizione comunque non cambia rimane sempre sempre come era prima e ora direi che vi mandiamo un bacio grande 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 e ci vediamo nel prossimo video ciao amiche e amici buona serata fate le brave e i bravi e abbiate sempre cura di voi e abbiatevi grazie a tutti grazie a tutti